Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha disposto un intervento immediato sequestrando lungo il tratto del fiume Salinello, in località Tortoreto, una piantagione di cannabis costituita da circa 180 piante e arrestando in flagranza di reato un uomo di nazionalità albanese. L'operazione è stata frutto della sinergia tra i reparti territoriali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio. I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara, infatti, nel corso di una ricognizione aerea, hanno localizzato un'area lungo il fiume Salinello, dove svettava una piantagione di marijuana. Ad intervenire sono stati i militari della compagnia di Giulianova insieme ai colleghi della sezione aerea di Pescara. Attraverso sentieri impervi percorribili solamente a piedi, i finanzieri hanno raggiunto la zona collinare dove, nascosta dalla rigogliosa vegetazione, hanno individuato la piantagione di marijuana, composta da circa 180 piante di un'altezza media di ben tre metri e mezzo, ormai in piena fioritura e pronte per essere raccolte. Custode della piantagione, un soggetto di nazionalità albanese sorpreso ad accudire le piante, annaffiarle e curarne il corretto accrescimento. Una volta identificato l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, alla quale dovrà rispondere dei reati di produzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il prodotto stupefacente, seccato e trinciato avrebbe fruttato, una volta immesso sul mercato illegale, oltre 200 mila euro. La piantagione di cannabis è stata opportunamente sradicata dal terreno, un colpo importante alla produzione illecita e allo spaccio di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di arricchimento della criminalità anche organizzata.